Dopo il recente via libera del Ministero dell'Interno per l'allestimento nel centro storico di Lecce di altre 12 telecamere di video sorveglianza scattano i controlli notturni da parte dei vigili urbani. Obiettivo garantire la sicurezza per i cittadini e per i turisti. Lecce è dunque presidiata per tutta la notte fino alle 6 del mattino attraverso appositi servizi di vigilanza per cui il Comune ha stanziato 35.000 euro. Il potenziamento dei controlli e gli accertamenti delle violazioni del codice della strada sono stati decisi dalla Giunta Municipale nei giorni scorsi. Obiettivo è incrementare i livelli di sicurezza in tutta la città durante l'estate. Il Salento e la Cule del turismo è tramovida e serata, il popolo della notte si attarda fino all'alba. Per questo Palazzo Carafa ha concesso l'autorizzazione ad installare altre telecamere di video sorveglianza. Saranno allestite in prossimità di Piazza Santoronzo dove nell'arco dell'ultimo anno si sono verificati schiamazzi notturni di vagabondi in stato di ebrezza e soprattutto nei vicoli attigui alla sede del rettorato dell'Università del Salento dove si è registrato un incremento dell'attività di prostituzione. Anche il fenomeno del commercio abusivo non è da meno messo in luce dai negozianti del centro che lamentano una massiccia presenza di venditori non in regola anche nella centrale Piazza Santoronzo. Anche per loro scatteranno controlli molto più rigidi.